Il dramma della Vastese va in scena in quel di San Benedetto del Tronto in uno scontro salvezza della ventottesima giornata della serie di Girone F che vede alla fine il successo dei padroni di casa con un rocambolesco 1-0. Il match parte con le migliori delle intenzioni per la compagine di mister Cornacchini che sfiora il vantaggio già all'ottavo sugli sviluppi di una costruzione da calcio piazzato. La sfera termina però alta. Stesso destino per la conclusione di Cardella, qualche giro d'orologio più avanti, quindi stavolta per la San Benedettese, con Baiocco disteso a volare sul palo destro. Primo slide indoors del match alla mezz'ora, conclusione debole ingirata da parte di Altobelli. Angiulli si ritrova la sfera a carambolargli sul braccio ed è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Di Nardo che però si fa ipnotizzare da Marone sia sulla prima battuta che sulla respinta successiva. La Vastese continua a giocare e trova un altro rigore al trentacinquesimo con Zé Gomez questa volta atterrato in area da Conson. Ancora penalti per gli abruzzesi, si presenta quindi Chiare Mateng sul dischetto ma la sostanza non cambia, Marone vola e salva la San Benedettese. Nel primo tempo non succede più nulla e la Vastese inizia a vedere i fantasmi con la ripresa che si apre, ancora una volta con Marone sugli scudi a volare su una conclusione da distanza ravvicinata. Quindi un miracolo tocca anche al portiere dei Biancorossi Baiocco su calcio di punizione battuto da Proia, subentrato. Il dramma si materializza dieci minuti dalla fine per la Vastese, ancora con Proia a farsi atterrare in area di rigore ed il penalty fischiato stavolta a favore della Samb vede presentarsi sul dischetto Cardella che spiazza imparabilmente Baiocco e realizza il centro dell'1-0 per i padroni di casa. Grandi festeggiamenti per la San Benedettese che allontana così in modo importante la zona play-out mentre la Vastese prova a ribaltarsi in area di rigore dei padroni di casa se non altro con coraggio. Un colpo di testa al novantesimo sugli sviluppi di un corner esce di pochissimo quindi l'ultimo assalto anche con Baiocco proiettato in avanti non porta a nulla e si apre lo psicodramma per una squadra incredibilmente vicinissima alla retrocessione. Allora mi sarebbe difficile commentare questa partita, due rigori sbagliati nel primo tempo e insomma poi perderla di rigore sarà proprio di beffa. È tutto molto semplice nella lettura, nel momento in cui tu sbagli i due rigori c'era da tremare e c'era la possibilità che non si prendesse un rigore come poi abbiamo preso perché il calcio è questo qua. È un ripetersi delle cose, negli anni vedo sempre le stesse cose quindi quando tu ti accorgi cerchi di motivare e dire ai ragazzi che potrebbe succedere questo perché è così e purtroppo è successo anche oggi. Però vogliamo parlare, di cosa devo parlare? Mi sembra che abbiamo perso, quante partite abbiamo perso? Sei partito a due punti mi pare. Sei partito a due punti, è un bel rullino di marcia quindi devo stare solo zitto. Vabbè c'è il play out sempre. Vabbè speriamo, cosa fate? Mi sta parlando di mettersi perché la sento un po'. Cosa? Ma che di mettermi? La sentivo un po'. No allora ascolta, siccome è un po' che sono nel calcio, un pochettino, forse più di te, qui basta che uno dice una cosa e parte subito come era successo poi in settimana che dicevano che mi ero dimesso. Ma che dimesso? Io sono uno che non si dimette neanche perché per me è una sconfitta. Poi se poi arrivo sul campo la sconfitta va benissimo ma così non posso assolutamente.